chi c'era nell'appartamento di raffaella castagna il pomeriggio dell'undici dicembre 2006 due ore prima della strage nel corso di questa puntata vi mostreremo la prova documentale che scagiona definitivamente olindo romano e rosa bazzi dall'accusa di essere gli assassini la strage di erba avvenne l'undici dicembre 2006 secondo le sentenze il contatore della luce dell'appartamento di raffaella castagna che si trova all'esterno della corte era stato staccato dagli assassini intorno alle 17 40 intorno alle 20 quando raffaella tornò a casa dal lavoro accompagnata dalla madre paola galli e dal figlioletto iusef marzuc trovo la luce spenta riaprì la porta per andare a riattaccare il contatore e a quel punto si trova davanti a olindo e rosa che compirono la strage questo almeno è quello che dicono le sentenze in tutto questo c'è sempre stato un particolare che stonava ovvero sotto l'appartamento di raffaella castagna viveva una coppia di siriani con i figli abdel karim kaluf e sua moglie eba baddura i quali testimoniarono più volte di aver sentito dei passi provenire dall'appartamento di raffaella castagna due ore prima della strage si trattava di un particolare fondamentale per scagionare olindo romano e rosa bazzi dato che i due non avevano certamente le chiavi di casa di raffaella castagna ma la testimonianza dei siriani non fu considerata attendibile andava a scontrarsi con la ricostruzione fatta dagli inquirenti secondo cui gli assassini erano linde rosa e avrebbero agito una volta che raffaella aveva aperto loro la porta e andava a scontrarsi anche con quanto gli stessi avevano poi confessato e questa testimonianza dunque fu considerata inattendibile dal processo almeno fino a oggi in particolare la loro testimonianza era stata resa vana da un esperimento rudimentale ovvero non scientifico è svolto dallo stesso comandante dei carabinieri di erba camminando nell'appartamento soprastante ma oggi siamo in grado di documentare che poco prima che ci fosse la strage e poco prima che il contatore fosse staccato in quell'appartamento c'era davvero qualcuno partiamo dalla giornata di raffaella castagna di quell'undici dicembre come testimoniò il padre carlo in aula paula galli la mamma di raffaella andò a prenderla alle 13 e 05 per portarla alla stazione e tenere con sé il bambino e riportarlo nella casa di via trieste insieme al nonno questa era una cosa che faceva sempre paolo diceva il padre carlo dunque dalle 13 05 13 10 quell'appartamento doveva essere vuoto essendo a zuz in tunisia solo che il contatore della corrente subì due importanti variazioni di energia elettrica uno dalle 14 15 alle 15 30 e uno dalle 17 15 fino a contatore non fu staccato questa discrasia fatta notare alla difesa dall'inviato delle iene antonino monteleone ha convinto gli avvocati della coppia a chiedere la consulenza di un ingegnere ingegner paolo rabitti uno dei massimi esperti in italia consulente da oltre 30 anni delle procure in delicatissimi casi e delicatissimi processi e l'ingegnere ha concluso che quelle variazioni sono senza ombra di dubbio indicative della presenza di una o più persone all'interno dell'appartamento e i numeri non sono testimonianze non possono essere smentiti la consulenza dell'ingegner rabitti è stata svolta sui tabulati consegnati all'epoca dall'enel e che sono giunti purtroppo anche in questo caso mancanti alla difesa come già successo per le intercettazioni e sui consumi di tutti gli elettrodomestici ritrovati nella casa di raffaella castagna e fotografati meticolosamente questa volta dai carabinieri la cosa sorprendente è che per l'ingegner rabitti qualsiasi ingegnere sarebbe stato in grado di svolgere all'epoca una consulenza del genere che avrebbe dimostrato il consumo di energia e la presenza di persone in quella casa però questa consulenza non fu fatta o meglio ne fu annunciata una nel mese di gennaio del 2007 consulenza che però non è mai arrivata in atti quindi gli assassini erano in casa ben prima delle venti ed entrarono in casa con delle chiavi perché la porta non fu ritrovata forzata solo che olindo e rosa non avevano le chiavi di quell'appartamento e a dirla tutta nella fascia oraria indicata in cui c'è una variazione importante di corrente non si trovavano nemmeno nella corte perché olindo era andato a prendere rosa sul lavoro dalla signora rosina che lavoravano le poste e rientrarono nella corte soltanto alle 17 e 30 a riscontro della consulenza dell'ingegner rabitti ci sono poi due elementi la prima è appunto la testimonianza dei siriani che non venne presa in considerazione nei processi la seconda sono due mazzi di chiavi ritrovati sulla scena del crimine e che non sono stati riconosciuti da nessuno tanto da essere inseriti nella relazione del rissa il primo è un mazzo di chiavi con attaccato il pupazzetto di winnie de pooh ritrovato sul pianerottolo dell'appartamento di raffaella castagna e denominato con la sigla c13 il secondo è invece un altro mazzo di chiavi rinvenuto nel corridoio dell'appartamento di raffaella insieme ai documenti della stessa e denominato 23d sicché dando per certo che chi era in casa a quell'ora era certamente l'assassino e dando per certo che olindo e rosa non avevano le chiavi di quell'appartamento e dando per certo che olindo e rosa non si trovavano nemmeno nella corte alle ore 17 15 ne consegue che la coppia è assolutamente innocente per prova documentale però la consulenza degli ingegneri rabitti basata sui tabulati enel disponibili per quella settimana mette in luce molto altro partiamo però da due fatti acclarati il primo secondo la testimonianza dei colleghi di raffaella di tutti i colleghi di raffaella raffaella faceva sempre lo stesso turno dalle 14 e 30 alle 18 e 30 dal lunedì al sabato a villacusi di magreglio e questo è un fatto accertato il secondo fatto accertato è che la settimana precedente la strage lei si recò sempre a villacusi di magreglio il pomeriggio e questo ce lo dicono i tabulati telefonici perché la cella che agganciava il suo telefono cellulare quando si trovava a magreglio era completamente diversa dalla cella che il suo cellulare agganciava quando si trovava ad erba e qual è il problema che l'ingegner rabitti si è accorto dai tabulati disponibili che almeno il 4 e il 5 di dicembre nella casa di raffaella castagna ci furono delle variazioni di corrente importanti e indicative della presenza di una o più persone e lo stesso avvenne il giorno prima della strage la domenica quando però raffaella si trovava a casa dei parenti di azzuz a merone e fu riaccompagnata a casa unitamente a yousef alle 20 e 30 quel qualcuno aveva evidentemente le chiavi di casa di raffaella castagna non essendo la porta ritrovata forzata quel qualcuno entrò il 4 dicembre entrò il 5 dicembre e non era paola galli perché come ha ricordato il marito in aula non andava mai a casa di raffaella quando questa non c'era e quel qualcuno entrò il pomeriggio della strage dell'11 dicembre con le chiavi di casa e ci furono importanti variazioni di corrente fino a quando il contatore non risultò staccato sicché essendo ovviamente certo che chi si trovava in quell'appartamento poco prima della strage poco prima che il contatore fosse staccato era l'assassino resta da farsi una sola domanda chi erano le persone in quell'appartamento chi sono i veri autori della strage di erba se volete sostenere la nostra inchiesta iscrivetevi al canale abbiamo aperto anche una zona abbonati per chi vi volesse approfondire nella quale abbiamo messo per ora i sei interrogatori di Olindo Romano e Rosa Bazzi commentati con diversi elementi mai entrati nei processi infine è disponibile la versione aggiornata del grande abbaglio con le scoperte che abbiamo fatto negli anni dopo il procedimento di primo grado svoltosi a Como nel 2008 di un'attività di un'attività più grande Grazie a tutti.